ciao sono lara e insieme a k channel tv entreremo nel meraviglioso mondo della cosmetica ma quale cosmetica la nostra noi donne siamo particolari abbiamo pelli particolari esigenze diverse quindi noi vogliamo sempre trovare il prodotto giusto in ogni momento della nostra giornata come fare però per orientarci in questa gamma di prodotti la profumeria presenta tanti prodotti diversi make up come fare per avere una bella pelle radiosa compatta e luminosa seguiteci su k channel tv insieme troveremo il prodotto giusto per voi vi aspetto